Io le faccio un esempio. Dovrebbe essere l'Italia a chiudere le porte. Mi augurerei che anche altri governatori da nord a sud prendessero le nostre posizioni di coerenza ed anche di tutela dei nostri cittadini, del nostro territorio. Però, completo, ci sono 5.000 migranti pronti a essere trasferiti al nord, partiranno nelle prossime ore gli autobus per il nord Italia. Voi che fate? Chiudete le frontiere? Come vi comportate? Mi scusi, noi subiremo quest'anno un aumento addirittura dopo i numeri record dello scorso anno, 170.000 arrivi e il governo è assolutamente inerme. Siamo l'unico paese affacciato sul Mediterraneo europeo che ha questi numeri. Evidentemente c'è qualcuno che favorisce l'immigrazione clandestina del governo, non a casa abbiamo visto gli scandali di Roma Capitale, evidentemente non è solo unismo, c'è anche grande interesse. Ci sono nuove intercettazioni perché c'è un'industria sui migranti.